risultati delle elezioni regionali in piemonte cirio rieletto rapporto sulle elezioni regionali in piemonte alberto cirio rieletto presidente del piemonte le elezioni regionali in piemonte che si sono svolte all'inizio di giugno 2024 hanno determinato un chiaro vincitore alberto cirio l'attuale presidente della regione piemonte è riuscito a prevalere in una competizione piena di tensione contro una varietà di concorrenti ed è stato quindi confermato per un altro mandato l'esito delle elezioni è stato il risultato di una intensa campagna elettorale in cui sono emersi temi come lo sviluppo economico il lavoro e il sistema sanitario la partecipazione elettorale i risultati delle elezioni il tasso di partecipazione alle regionali piemonte 2020 fuor è stato più alto del previsto secondo i dati definitivi del ministero dell'interno la partecipazione è stata del 68 per cento in lieve aumento rispetto alle elezioni precedenti nella regione alberto cirio è riuscito a prevalere chiaramente sulla sua più forte avversaria del centro-sinistra marta rossi ottenendo circa il 52 per cento dei voti contro il 42 per cento di marta rossi altri candidati tra cui rappresentanti di partiti minori e liste indipendenti antenue complessivamente circa il 6 per cento dei voti reazioni e analisi dopo l'annuncio dei risultati elettorali sono iniziate le prime analisi politiche molti osservatori e analisti concordano sul fatto che la convincente vittoria di cirio sia il risultato della sua efficace prima legislatura negli anni passati si è distinto soprattutto per le sue misure economiche e per la gestione delle crisi durante la pandemia da covi 19 questo è stato riconosciuto non solo dai suoi sostenitori ma anche da molti elettori neutrali un altro aspetto importante è stato il focus di cirio sul potenziamento delle aree rurali il veneto è conosciuto per le sue zone rurali e le aziende agricole ivi insediate che costituiscono una parte importante dell'economia cirio ha sostenuto durante il suo mandato vasti investimenti in progetti infrastrutturali e programmi di supporto alle aziende agricole guadagnandosi così un ampio consenso da queste fasce della popolazione da menzionare anche il suo impegno per il turismo in quanto regione con una ricca storia e paesaggi pittoreschi il piemonte ha avviato sotto la sua guida misure per promuovere il turismo che hanno portato a un aumento dei visitatori e a impulsi economici sfide e prospettive future nonostante la vittoria elettorale cirio e il suo governo si trovano di fronte a numerose sfide un tema centrale è il recupero economico dopo la pandemia sebbene abbia ottenuto alcuni progressi durante il suo primo mandato la situazione economica rimane tesa il tasso di disoccupazione rimane ancora alto nonostante alcuni sviluppi positivi e molte aziende continuano a lottare per sopravvivere un altro problema urgente è quello del sistema sanitario durante la pandemia sono emersi numerosi deficit che ora devono essere affrontati cirio ha già annunciato di voler investire in migliori infrastrutture e personale sanitario per migliorare l'assistenza medica nella regione le questioni ambientali e climat avranno anche un ruolo importante alla luce delle crescenti conseguenze dei cambiamenti climatici cirio ha promesso di rafforzare le misure per proteggere l'ambiente e sostenere progetti sostenibili questo include investimenti nelle energie rinnovabili e lo sviluppo di mezzi di trasporto ecologici opposizione reagisce marta rossi principale concorrente di cirio lo ha congratulato per la sua vittoria e ha sottolineato contemporaneamente l'importanza di un'opposizione forte ha annunciato di monitorare attentamente la politica futura del governo e di fare attenzione al rispetto delle promesse elettorali il vostro obiettivo è quello di continuare a lottare per una politica socialmente equa e di essere la voce di coloro che non si sentono adeguatamente rappresentati dal governo attuale in conclusione le elezioni regionali in piemonte del 2024 sono state completate e alberto cirio emerge come vincitore con un chiaro mandato per un altro mandato ora si trova di fronte a compiti non meno impegnativi rispetto agli anni passati la speranza di molti cittadini in particolare per quanto riguarda il recupero economico e miglioramenti nella salute ora è nelle sue mani resta da vedere come lui e il suo governo affronteranno le sfide future autoren tecniac somrè di truge l'app